La presentazione del progetto Zetalab qui a Intesa San Paolo, direzione Lombarda, qui a Como, direttamente in piazza Cavour, con noi c'è il direttore di Lombardia di Intesa San Paolo, Paolo Graziano. Buongiorno. Buongiorno. Allora, i ragazzi hanno lavorato in questi 15 giorni, vengono da due istituti superiori comaschi, hanno sentito un po' il polso del lavoro in banca. Lei prima si è sofferminato molto su questo concetto che chi lavora specialmente nell'ambito anglosassone tiene ben distinto, capacità e competenze. Sono due cose che davvero devono andare di pari passo. Una volta per lavorare in banca bastava saper fare due conticini, adesso non è più così, vero? I ragazzi lo sanno. Credo che non soltanto in banca, ma credo che in tutti i lavori negli anni c'è stata un'evoluzione molto forte delle capacità e delle competenze necessarie. Quindi non credo che sia un fenomeno soltanto bancario, ma riguarda tutta la società. Certo, le competenze sono importanti perché vuol dire avere una base culturale di esperienze importanti, ma poi le capacità ovviamente diventano fattore abilitante delle competenze per riuscire a far sì che le aziende vadano bene e che si possano soddisfare i bisogni che poi tutti i mestieri hanno come finalità principale il soddisfacimento di un bisogno. Ecco, se lei dovesse scegliere un ragazzo a parità di capacità, che competenze valuterebbe? Quale capacità valuterebbe? Cosa deve saper fare un bravo lavoratore in banca? Ma non avrei dubbi, l'empatia. L'empatia è un fattore rilevante perché noi gestiamo i bisogni dei nostri clienti, che sono bisogni non primari, quindi non sono bisogni della casa piuttosto che del pane o della carne o del medico. Sono bisogni diversi. Devo aiutare le persone a trovare delle soluzioni che siano veramente coerenti con i bisogni che le persone esprimono. Prima devo capire i bisogni, poi devo essere in grado di creare coerenza tra il bisogno che il cliente ha e quello che io penso possa essere la mia giusta offerta. Quindi l'empatia, la capacità di mettersi nei panni degli altri è fondamentale ed è quello che noi, un po' come banca dei territori, ci diamo come obiettivo primario e quindi cerchiamo di perseguirlo assolutamente. Ecco, allora, ultima cosa. Direttore, la vostra esperienza, il vostro feedback da questo primo esperimento di alternanza scuola e lavoro come? Ma è stata un'esperienza direi affascinante perché abbiamo avuto dei giovani che hanno portato via città, freschezza intellettuale, come dire, un modo di approcciare le cose che anche per una questione di età ma anche di cultura è diversa e quindi io credo che abbiamo dato loro un arricchimento culturale ma devo dire come tutte le volte che ci si scambia dell'opinione anche noi a nostra volta abbiamo avuto un arricchimento culturale.